La precocità sessuale è una condizione, può creare disagio sia nel ragazzo che nella ragazza, come bisogna intervenire se bisogna intervenire? Il professor Salvatore Corsello, endocrinologo all'Università Cattolica di Roma. Allora, precocità sessuale, quando è tale? Quando se ne può parlare? Ecco, quando i primi segni dello sviluppo uberale, quindi la comparsa del seno nella femmina, l'aumento del volume testicolare nel maschio e la comparsa della peluria pubblica e ascellare in ambedue, compare prima degli otto anni nella femmina e prima dei nove anni nel maschio. Normalmente avviene un paio d'anni dopo in ambedue i sessi. Da cosa dipende questa precocità tanto frequente oggi? Ecco, ci sono una serie di cause che la rendono oggi così frequente. Una è l'obesità, l'aumento del peso corporeo nella nostra popolazione giovanile è una causa, in quanto nel grasso si sviluppano delle sostanze che facilitano l'inizio della pubertà. Inoltre vi sono dei contaminanti alimentari, le carni spesso sono trattate con delle sostanze anabolizzanti che interferiscono sull'equilibrio ormonale sessuale e da ultimo vi è un aspetto come dire neuropsicologico, l'esposizione dei nostri figli ha stimoli attraverso la televisione, attraverso la pubblicità, attraverso la stampa eroticamente significativi, sembra poter attivare quei meccanismi che sono alla base l'orologio biologico che fa iniziare la pubertà. Ecco, questa precocità che conseguenze può dare? Ma essenzialmente due. Uno è quello sulla statura, perché se vi è una vera precocità le cartilagini di accrescimento vengono saldate prima, quindi il bambino cresce rapidamente ma salda, chiude più rapidamente e quindi la statura finale sarà più bassa e infine l'ovvia situazione di disagio nei confronti del rapporto con i pari età. Ecco, come si cura? Come si interviene? Cosa fa l'endocrinologo? Se c'è l'indicazione, quindi se è una vera pubertà precoce, esistono dei farmaci molto semplici da usare, perché sono delle iniezioni intramuscolo di alcune sostanze che bloccano gli ormoni sessuali e che vengono fatti una volta al mese, addirittura una volta ogni tre mesi. Questi consentiranno di spostare in avanti l'inizio della pubertà di una epoca più fisiologica.